incredibile non le fanno niente queste entrano nel formicaio di queste altre gialle e le gialle non le fanno niente e questa colonia è venuta su con le marginato incredibile amica è venuta su con le marginato è venuta su con le marginato incredibile solo che quando entrano dalle marginato le micelle prendono è venuta su con le marginato